Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi continueremo la serie dei wrapping E andremo a wrappare una parte interna al bagagliaio Così, mi è presa così oggi Questa barra qui, barra Per toglierla basta Fare pressione, tirarla verso di noi Questi gancetti e questo solo strap Ok, come al solito Ci serve la pellicola Taglierino E phone o pistola termica Ci tagliamo un pezzo di pellicola Che possa ricoprire la parte interessata E fatto ciò Ci diamo una pulita Ciao a tutti 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 Grazie 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 a tutti